Aumenta il numero dei ricoverati in malattie infettive rispetto ai giorni precedenti, rimane stabile la curva di positività nel complesso per i paesi della provincia. Sono 211 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 71 sono di Gela, 57 sono di Caltanissetta. Rispetto ai ricoveri, 2 in più da 48 a 50 nelle ultime 24 ore e 3 sono sempre i positivi ricoverati in terapia intensiva. Per ciò che riguarda il capoluogo, meno di 700 i positivi in quarantena domiciliare, sono 638, 17 sono i ricoverati in malattie infettive, 3 sono i positivi ricoverati in terapia intensiva, dunque sono tutti nisseni i ricoverati in rianimazione, mentre 2 i cittadini nisseni sono ricoverati in altro presidio. Nel complesso i positivi in tutta la provincia sono 3.051 quelli in degenza domiciliare. È Acquaviva Ancona l'unico paese covid free.